Planet Explorer 5 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 Verdi Palmerayas e Villaggi Berberi Finché dopo 15 km di strada non giungiamo qui In queste pareti alte, rocciose, che si schiudono di fronte a noi come fossero un po' le porte del paradiso Siamo giunti nelle gole del Todra E' qui che la faglia separa principalmente due zone importanti L'Alco Atlante dal Jebel Sardine 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 Scenari, grandi paesaggi, la natura sovrana Ma mancava un po' di colore, un po' di umanità in questo Planet Explorer 5 E in Marocco l'abbiamo trovato In questa famiglia di nomadi, nomadi berberi immaginiamo Che ci hanno offerto appunto ciò che loro riservano come dono più gradito agli ospiti Del Tè alla Menta L'Alco Atlante dal Jebel Sardine L'Alco Atlante dal Jebel Sardine L'Alco Atlante dal Jebel Sardine Grazie a tutti.